Ci sono gemellaggi importanti, veri, utili, ci sono gemellaggi che restano una testimonianza di affetto e di amicizia. Questo gemellaggio con Kaliningrad che abbiamo appena sottoscritto nasce su una collaborazione già in essere, concreta e importante. A che cosa mi riferisco? Nelle prossime settimane, grazie anche a questo gemellaggio, una compagnia russa, la seconda compagnia russa dopo Aeroflot avrà dei collegamenti diretti tra le città russe e l'aeroporto di Catania. Questo significa turismo russo, che è un turismo particolarmente importante, che verrà a Catania e in Sicilia e questo significa per gli imprenditori russi che vogliono investire da noi la possibilità di un collegamento diretto. La seconda occasione di collaborazione è tra le due università. Kaliningrad è la città di Emanuele Kant, è una delle città più importanti dal punto di vista culturale, ha un porto di grande rilievo. Noi vogliamo collaborare con Kaliningrad anche sul piano universitario, avere studenti russi che vengono a perfezionarsi da noi nelle cose in cui noi siamo eccellenti e avere degli studenti siciliani che vanno a perfezionarsi in Russia sulle cose su cui loro sono eccellenti. Un ponte di collegamento tra un continente vero e proprio come la russa e l'area euro-mediterranea che Catania rappresenta in modo significativo.